Enrico Cisnetto presenta Roma incontra a Rapacis, più talk, meno show. E rottura fu Berlusconi e i falchi da una parte, Alfano e le Colombe dall'altra, almeno per ora, perché ho l'impressione che la strada che porta alle prossime elezioni, europee o politiche che siano, sia ancora la stricata di molti altri colpi di scena. Sentiamo che ne dice l'uomo che sussurra i potenti, che nel suo libro aveva pronosticato quello che lui chiama il tradimento di Alfano, con l'obiettivo di creare un nuovo partito con Enrico Letta. Profetico o informato, Luigi Bisignani? Beh, né profetico né informato, soltanto una lunga esperienza politica della Prima Repubblica che mi fa vedere che quelli che organizzano dei tradimenti poi li perpetuano. Alfano era, da giovanissimo, un seguace di Demite in Sicilia. Poi, grazie agli amici di Berlusconi, in particolare Micichè e Dell'Utri, arriva alla corte di Berlusconi, lo conquista e poi lo tradisce. Ma per me la partita vera si deve ancora giocare, ed è tra queste due ipotesi. O Alfano, Letta, Casini e i trasfughi di scelta civica si mettono insieme, spaccando anche il PD, o Berlusconi recupera Angelino. Beh, bisogna vedere che cosa succede dopo la decadenza di Berlusconi il 27 novembre. Certo, tutto lascia prevedere che Alfano cercherà di abbracciare Letta, giovane, assieme a Casini e a tutti quelli che stanno facendo avanti e indietro tra un partito e l'altro. Ma se si spacca anche il PD, chi è che rompe? Sono certo che si rompe, perché a sinistra del PD e soprattutto la base comunista non possono certo apprezzare che il loro grande, vecchio partito venga gestito da due giovani democristiani camuffate, come Letta e Renzi. Comunque non capisco Berlusconi. Vorrebbe che cadesse il governo, ma dopo la spaccatura non ha più i numeri per farlo. Tanto voleva stare uniti, no? Beh, Berlusconi secondo me è l'unico che ha i voti, per cui nonostante tutto è l'unico che ha ancora le carte in mano. Alfano questo lo sta benissimo, per quello tiene la porta aperta perché è pronto a riaccucciarsi con Berlusconi, così come aveva fatto l'anno scorso. E un certo Monsignor Fisichella a che c'entra in tutto questo? È singolare che Repubblica scrive questo oggi. Se leggeva il libro che abbiamo fatto con Madron, sono io che ho scritto per primo che le riunioni da Carbonari si svolgevano a casa di Fisichella in una sede appunto vaticana. Cancellieri come occasione per un rimpasto? La Cancellieri, pur essendo il miglior ministro di questo governo, finirà per essere l'agnello sacrificale. Ma se lei porterà un rimpasto, non lo so. Certamente il Presidente Anderotti diceva che fare i rimpasti è come il bowling. Butti giù un birillo e cadono giù tutti gli altri, magari anche il ministro Saccomanni. Bisognani, non c'è solo Alfano. Schifani, Cicchitto, Lupi, Formigoni, Quagliariello, tutti traditori? Ma non è questione che non mi va bene nessuno. Questa frattura, il nome della governabilità, mi fa un po' sorridere perché questo forse è uno dei peggiori governi della Repubblica. In sette mesi non è riuscito a fare nulla, nonostante una maggioranza parlamentare enorme, i sindacati totalmente silenzi e lo spread sotto controllo. E Sacconi che sarà il nostro ospite stasera? Beh, innanzitutto ho grande simpatia umana per Sacconi. Abbiamo lo stesso gol oculista insieme e giochiamo anche nello stesso campo da tennis. Anzi, vi dirò che lui è veramente un grande giocatore di tennis con uno stile straordinario. Io credo che forse ha fatto questa scelta perché probabilmente spera in una nuova stagione politica. Una cosa è certa, Gianni Letta con Falonieri, Doris, sono contrari al Cavaliere versione Falco. Beh, perché sono delle colombe per natura, perché hanno a cuore le sorti dell'azienda, perché non gli piace loro litigare e poi perché hanno un filo molto sottile ma duro con il Presidente della Repubblica Napolitana. Berlusconi si salva o fa la fine di Craxi? Beh, Berlusconi ha i voti, c'è poco da fare. Craxi era in quel momento odiato nel Paese per poi essere riabilitato. Berlusconi ancora ha i voti e perciò, ripeto, ha ancora le carte in mano. Chissà se Bisignani ha sussurrato al Cavaliere di candidare sua figlia Marina o magari Barbara. Berlusconi ha bisogno di mettere il suo cognome nel simbolo elettorale e per farlo dovrà cercare uno dei figli. Marina è quella certamente più amata in famiglia e quella che ha più esperienza. Ma quel che rimane dei poteri forti, con chi sta ora? I poteri forti non ci stanno più. Mediobanca ormai è una caricatura di quello che era, per non parlare della Confindustria, dove Squinzi, che tutti chiamano ormai Forrest Gump, Bazzoli, io credo che abbia ragione della valle. Forse si dovrebbe mettere un po' da parte. Certo fa effetto vedere De Benedetti sponsorizzare Renzi. Se fossi Renzi mi preoccuperei, perché fino adesso l'ingegnere, tanto bravo a fare soldi sulla politica, non è che ne abbiano indovinate tante. Mi sa che qui a perdere sarà l'Italia se non la smettiamo con questi giochettini. Io spero che dopo il PDL si spacchi anche il PD e che questa sia la premessa per cambiare. Il vecchio schema non regge più. Chiedetelo ai disoccupati, ai giovani senza futuro e al ceto medio che si impoverisce ogni giorno di più. Sigla. Grazie. Grazie. Ma è vera questa cosa del tennis. Ti avevo lasciato che eri un grande sciatore e ti ritrovo tennista. Che partita hai fatto in questa circostanza? Questa era l'unica cosa vera. Io ho praticato il tennis agonistico molto e poi l'ho insegnato in metà giovanile e ogni tanto mi ritorna quello che impari quando alla fine sei solo e devi... E che partita hai fatto tra l'olta? Nei confronti con l'avversario. Io ho un punto di riferimento fondamentale. Penso che la sinistra italiana ancora più nella degenerazione renziana costituisca davvero un pericolo per questo nostro paese. E penso tuttavia che se questa legislatura dovesse finire traumaticamente presto a solo un anno dal voto precedente le possibilità di una persona che usa la sua giovane età per offrire una speranza a una società che sarebbe ancora più disperata dal trauma istituzionale potrebbe davvero vincere. Sarebbe a mio avviso un disastro per la nazione. E questo è il punto di riferimento per me e per, credo, per tutti gli altri che hanno compiuto questa scelta. Come evitare questa ulteriore deriva italiana? Come in conseguenza consentire a questa legislatura di sopravvivere operosamente compiendo alcune scelte fondamentali quelle istituzionali in particolare la riforma elettorale e dall'altra parte quelle economiche cioè nel senso di andare oltre il rigore introducendo stimoli alla crescita allo sviluppo in una stagione nella quale i sintomi della ripresa per quanto pochi ci sono. Adesso ci arriviamo sbottonati per due motivi primo perché così mi rispondi più meno in politichese secondo perché c'hai il microfono che tocca la giacca per cui sbottonati in tutti i sensi. Nato a Conegliano 63 anni fa socialista della prima ora Saccone è stato eletto deputato a soli 29 anni nel 1979 si è sempre occupato di lavoro di lui i nemici dicono che è un anticomunista viscerale e acerrimo nemico della cigele della fioma gli amici dicono che se non fosse così visceralmente anticomunista e anticigele CGL sarebbe perfetto. Io di lui preferisco ricordare la sua vicinanza a Marchiobbiagi che non la sua posizione sul caso Englaro. Allora ti senti un traditore? Assolutamente no ma in politica esiste il tradimento? Premesso appunto che in politica non esiste il tradimento anche se tu puoi individuare nei comportamenti di una persona o di un gruppo politico discontinuità. Io non vedo in questo caso discontinuità. la discontinuità l'ha avuta certamente Fini Fini ha ad un certo punto avuto discontinuità su un tema fondamentale per il centrodestra italiano che è la giustizia e in quel senso il tradimento andava riferito soprattutto alle idee e tra le idee a quella fondamentale il centrodestra italiano nasce come risposta al colpo di Stato che viene perpetrato nel 1993 e 1994 e i cui esiti in certa misura ancora sopravvivono. Ma la nostra posizione è assolutamente in continuità con il lavoro di questi anni. Noi vogliamo un centrodestra vincente. Il punto fondamentale è che noi non ci rassegniamo all'idea di un centrodestra minoritario e non ci basta l'idea di un voto quasi catartico rispetto alla ingiusta aggressione giudiziaria che è stata rivolta a Silvio Berlusconi. Divisi ma alleati è un po' difficile da spiegare. Questo non è vero. Una coalizione poi si può organizzare se si hanno obiettivi condivisi così come si è formata con la Lega nonostante avessimo avuto un atteggiamento ben diverso rispetto ad un governo come il governo Monti. Io credo che la coalizione di centrodestra quando sarà il voto dovrà scegliere il suo candidato attraverso le primarie come suggerisce Roberto Maroni lo vuole la Lega questa scelta attraverso le elezioni primarie la vogliamo noi e nella logica di una coalizione larga che sia davvero moderata la cui cifra prevalente sia una cifra come dire laica e cristiana moderata e riformista che può avere nel suo seno anche una componente populista mi sembra un po' il manche di Veltroni però no può avere nel suo seno perché una coalizione larga tollere il manche e quindi ci può essere anche ci può stare va anche Galan in una coalizione larga ma guai se la cifra di questa coalizione larga fosse l'eutanasia fosse l'abbandono dei principi della tradizione arrivando perfino ad ipotizzare che la nostra società di fronte al suicidio si gira dall'altra parte Senti ma Travaglio dice che comunque voi più che colombe siete conigli cosa gli rispondi? Ma che anche le colombe osano Ah e a proposito di Fini che tu hai citato prima è vero che Fini chiederà l'iscrizione al nuovo centrodestra? Ma non mi pare proprio come ho detto E se lo facesse cosa rispondereste? Fini di no Di no? Di no per evidenti ragioni per quello che ho detto prima stiamo al merito questo centrodestra sui temi della giustizia è molto determinato e anzi fa un bilancio di questi vent'anni non del tutto positivo cioè non abbiamo portato a casa molto e credo che invece il tema della responsabilità civile del magistrato debba essere a questo punto grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia europea declinato concretamente e c'è già il primo atto nel provvedimento varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri che può costituire la base anche per una responsabilità per quanto indiretta del magistrato se comincia ad essere affermata la responsabilità contabile cioè quando lo Stato paga per mala giustizia poi deve rivalersi su chi può avere commesso dolo, colpa grave o anche errore manifesto pensiamo al caso Tortora senti ma è vero che quando c'è stata una riunione per decidere cosa fare con i Ministri del FUPIDL e c'eri anche tu è arrivata una telefonata di incoraggiamento di Camillo Ruini ma figuriamoci ma queste sono ma io non non riuscirò io non lo so non ho mai partecipato a nessuna riunione e figuriamoci Monsignor Fisichella è stato il cappellano della Camera dei deputati quindi conosce tutti i parlamentari o almeno tutti i parlamentari che sono interessati alla fede ma di qui a costruire dietrologie di quel genere io non credo che sia un modo corretto di fare giornalismo quello di gettare lì ipotesi per le quali non c'è un testimone che le avvalori Senti ma Renzi l'altra sera da Fazio ha paragonato Berlusconi Alfano a Ridge e Brook di Beautiful non ti nascondo che non sapevo chi fossero i due perché non ho mai visto Beautiful pare che siano due che si prendono e si lasciano con grande facilità si prendono e si lasciano Il rapporto tra Berlusconi ed Alfano è un rapporto solidissimo come sappiamo che probabilmente oggi rimane vivo su basi diverse da quelle del passato e non è detto sia un male nel senso che sono basi sulle quali può essere solidamente costruita una coalizione maggioritaria Alfano ha chiamato l'area che si era venuta formando intorno a lui innovatori e ha chiamato i gruppi parlamentari e il movimento politico che ne nasce nuovo centrodestra l'idea è proprio questa cioè partire dal risultato di pochi mesi fa quando noi abbiamo perso 6 milioni sui 13 milioni del 2008 quasi dimezzati quasi dimezzati questi 6 milioni non sono andati a sinistra adesso poi ti chiederò se pensate di riuscire a recuperarli ma ci dobbiamo fermare un momento per la pubblicità penso che ti faccia piacere sapere che qui per chiamare la pubblicità si dice diamo una mano al PIL pubblicità ci vediamo fra un momento state con noi ben tornati a Roma incontro a Rapacis siamo con Maurizio Sacconi parliamo un po' del governo adesso c'ha quattro posizioni Grillo Vendola Berlusconi che di fatto è passato la posizione e Renzi che ha appena vinto non so se ti ha raggiunto la notizia ha vinto con il 46,7% rispetto a Cuperlo 38,4% la prima parte delle primarie è quella relativa agli iscritti che però per Renzi forse era anche la più difficile quindi quattro opposizioni se fossi in letta chi temeresti di più di questi quattro oppositori? Renzi non c'è dubbio perché Renzi vuole diventare segretario del Partito Democratico ma non vuole fare il segretario del Partito Democratico perché è costretto ad uscire dal bar sport e a misurarsi con i problemi concreti perché un segretario di partito deve prendere posizione ogni giorno deve prendere posizione deve scegliere di qui o di lì e non può essere con la Roma e con la Lazio come molto spesso accade ai rinnovatori della sinistra che per un breve tratto di strada fanno appunto il manche stanno con la Roma ma anche con la Lazio con l'Inter ma anche con il Milan e poi quando arriva il momento delle scelte Ma Renzi è solo una costruzione mediatica secondo te? Beh diciamo che per adesso è un avatar secondo me e mi auguro invece di vederlo segretario del Partito Democratico così in carne ed ossa Lo dici sarcasticamente Ma adesso ti voglio vedere Ma adesso ti voglio vedere come dire Ma te li conosco probabilmente si potrà dire dopo ma l'Italia ha bisogno di leadership che prendano posizioni posizioni chiare, inequivoche di questo io credo abbiamo bisogno io sono cresciuto con un leader che certo non la mandava a dire che non era certo ambiguo ed era Bettino Craxi e poi di Berlusconi mi è piaciuta in fondo la stessa cosa Alfano gli è figlio e credo che voglia rinnovare quella caratteristica scegliendo in modo inequivoco sui temi della spesa sui temi diciamo della dimensione dello Stato delle caratteristiche dello Stato della liberazione della società dal peso improprio Però senti Renzi dice una cosa sul governo che secondo me se ti conosco un po' non è che la pensi diversamente cioè che è un po' deludente sto governo forse più deludente di quello di Monti Ma questo è un governo sostenuto da una coalizione anomala che è evidente che più di tanto non può fare ma se facesse la riforma elettorale e dall'altra parte in qualche modo accompagnasse quei sintomi di ripresa che ci sono molto modesti che tuttavia sarebbero contraddetti da una o rattrappiti da un trauma istituzionale Se questo governo quindi proseguisse in un percorso io mi auguro più coraggioso soprattutto per quanto riguarda la rivisitazione della spesa ha a disposizione strumenti che il governo Berlusconi ha preparato ricordo il federalismo fiscale con i costi e i fabbisogni standard da un lato e l'agenda digitale dall'altro perché la rivisitazione della spesa delle pubbliche amministrazioni si deve fare con questi strumenti se vuole essere una rivisitazione come si dice intelligente Che voto gli dai al governo? Ma io credo che la sufficienza ce l'abbia ed è di questi tempi non poca cosa credo che però penso che io facciamo dal punto di vista delle mie convinzioni io parto dall'idea che si debba oggi lavorare soprattutto a ridurre la pressione fiscale a ridurla sulle famiglie sul lavoro sull'impresa che questo deve essere l'obiettivo principale credo che non si trovi nessuno che dica il contrario il problema è trovare i soldi nel 2012 nel 2013 rispetto al 2012 noi registreremo una pressione fiscale sulla casa straordinariamente inferiore davvero non verrà pagata l'Imu sulla prima casa però c'è un'altra tassa la comunale intanto parliamo del 2013 cioè di quest'anno che abbiamo vissuto ci stiamo preparando per un 2014 nel quale sia limitata e in questo senso vanno gli emendamenti che credo saranno accolti quella capacità impositiva dei comuni che era stata ampliata dal governo Monti e che aveva dato luogo nel 2012 a 4 miliardi in più di gettito rispetto a quello che era stato calcolato insieme ai comuni stessi proprio per un abuso del potere di imposizione da parte di amministratori inefficienti che scaricavano la loro incapacità su imprese e su persone ti ha fatto effetto il vedere che la commissione europea ha espresso una valutazione preventiva credo che sia la prima volta la prima volta lo fa su tutti nel senso che è una nuova procedura sì ho capito però certo comunque insomma che dice siccome non mi fido di come verrà fuori dal Parlamento la cosa ti dico già la commissione europea ha ricordato una cosa che è sempre rimasta in qualche modo ambigua ma che recentemente col fiscal compact era stata definita un po' più precisamente cioè la questione del debito non solo del disavanzo ma anche del debito non scordatevi di abbassare il debito e non c'è dubbio che l'Italia ha non solo il problema del disavanzo che anzi dopo la Germania ci vede più virtuosi in Europa per il disavanzo noi abbiamo un avanzo primario al netto degli interessi che peraltro pesano molto e determinano un disavanzo che è nei limiti europei a differenza dalla Francia per fare un esempio tu però hai diciamo in qualche modo evocato un possibile commissariamento cioè rischiamo di trovarci come in Grecia la Troica se noi avessimo il trauma istituzionale se noi finissimo traumaticamente questa legislatura a solo un anno dal voto precedente noi saremmo commissariati e le conseguenze che tu da attentissimo e competente osservatore delle cose economiche conosci sarebbero soprattutto un innalzamento della spesa pubblica per il costo di collocamento dei titoli pubblici e un innalzamento nonostante il bassissimo tasso di sconto della BCE innalzamento del costo del denaro per le imprese le conseguenze sarebbero quindi evidenti per quanto riguarda la nostra fragile economia che fa sta faticosamente riprendendosi insomma il tuo messaggio è deludente o meno che sia teniamoci sto governo perché se no il rischio è che affidiamo a questo governo faccia qualcun altro fuori dall'Italia l'esito elettorale è stato inequivoco da questo punto di vista consentiva o un governo della sinistra con i grillini Dio ci scampia i liberi per fortuna i grillini per fortuna i grillini non hanno accettato o un governo quale quello che si è prodotto e se rivotassimo nella migliore delle ipotesi riavremo gli stessi equilibri nella migliore delle ipotesi perché nella peggiore delle ipotesi noi avremmo l'incognita Renzi che effetto ti fa quella sta terribile incognita che è Renzi che effetto ti fa il fatto che in Basilicata abbiamo votato il 47,6% contro nelle precedenti elezioni regionali il 62,8% 15 punti di differenza la gente non c'è dubbio che è un segnale terribile perché la Basilicata è una regione atipicamente molto positiva nel mezzogiorno come territorio come diciamo in termini di caratteristiche sociali e istituzionali se si fosse votato in un'altra regione nel mezzogiorno si è pensato peggio come affluenza è possibile in Sicilia abbiamo avuto già un'evidenza di questo genere non ti induce a pensare che questo ragionamento che viene fatto allora Renzi deve fare il segretario del PD perché così almeno la sinistra finalmente può vincere voi vi siete disarticolati ma poi dovete fare il nuovo raggruppamento perché così il centrodestra può tornare a vincere non avete invece l'idea che gli italiani non abbiano più voglia né del vecchio centrosinistra né del vecchio centrodestra vogliano qualcosa di diverso e se questo qualcosa di diverso non gli viene proposto perché possono votare solo quello che c'è certo non possono votare quello che non c'è a quel punto o si astengono o magari danno il 30-35% il 40% a grillo ma il pericolo di un voto di protesta soprattutto in occasione delle elezioni europee c'è tutto le elezioni europee sono sempre state segnate dal voto in libertà dal fatto che gli elettori si sono messi in libertà sanno che non c'è una immediata posta in gioco per quanto riguarda il governo della nazione o dei loro territori quindi il pericolo si amplifica ma la novità le novità non si costruiscono sotto un cavolo sotto un cavolo possono emergere soltanto movimenti di radicale contestazione movimenti negativi ma le novità si costruiscono per evoluzione di tradizioni storiche quella liberale da un lato quella statalista dall'altro ed è qui il tema gli innovatori come cioè determinare un'evoluzione nel campo liberale come farlo in termini tali che tutto si tenga se vogliamo in questo ambito nel senso ma se voi incontraste i riformisti del PD che si chiami Letta che si chiami in qualche altro modo forse magari l'idea di mettere insieme i pezzi buoni dell'una e dell'altra parte non è così peregrina Io continuo a sperare in un sistema tendenzialmente bipolare anche se ormai c'è un terzo incomodo Maurizio sono passati vent'anni Continuo a sperare che sia data agli elettori la possibilità di scegliere direttamente la coalizione di governo e soprattutto l'uomo che la guida che io mi auguro sarà dotato di maggiori poteri cresciuto con Craxi sogno il presidenzialismo ma mi adatterei anche a un premierato forte quello che conta Occhio che poi ti trovi qualcuno se ti trovi Grillo presidente col presidenzialismo che fai? Ti migri? Ma è proprio questo io ho fiducia negli italiani io so che possono dare un voto a Grillo ma non al punto ma non al punto di affidare le loro sorti a un leader populista possono usare di quel voto per scuotere il ceto politico tradizionale ma non fino al punto di sostituirlo bisogna vedere qual è il loro grado di incazzatura non c'è dubbio ma tutto questo tutto questo timore che si determini anche una scelta populista quasi maggioritaria deve indurre ancora più il rinnovamento della offerta politica dell'area che chiamo in senso lato liberal popolare senti ma a proposito di Grillo Grillo Renzi e fra un po' Berlusconi tre leader dei principali soggetti politici fuori dal Parlamento per un motivo o per l'altro è il segno che le istituzioni sono perse oppure è un buon segno no nel caso di Berlusconi è un pessimo segno no ma il fatto che adesso al di là delle motivazioni per cui nel senso che ancora una volta bene il caso di Berlusconi ancora una volta hai la sensazione che in Italia si pratica il gioco politico sporco io ho parlato prima di colpo di Stato nel 1993 94 e anni seguenti e credo che la definizione sia assolutamente corretta un colpo di Stato non guerreggiato come in passato e in altre dimensioni geopolitiche si è prodotto ma non meno traumatico e penso che la bassa crescita italiana degli anni successivi risieda in quella nel vizio originario della seconda repubblica che non è mai stato affrontato coraggiosamente dai decisori cioè non c'è mai stato un'operazione di verità io penso che una nazione si liberi del proprio passato se lo legge con verità altrimenti come scriveva Marx è il morto a ferro al vivo senti ma torniamo a parlare di economia che effetto ti fanno questi due dati la disoccupazione giovanile al 40% e 400.000 partite IVA che se ne sono andate in questi anni di crisi ma noi abbiamo un evidente disastro sociale nel senso che per quanto riguarda i giovani noi riscontriamo oggi le conseguenze della distruzione del sistema educativo negli anni 70 faticosamente noi ne abbiamo avviato la ricostruzione soprattutto ricollegando la scuola al lavoro la separazione era stata radicale ideologica corporativa per molti versi oggi per fortuna stiamo tutti convenendo circa la necessità di integrare di più scuola e lavoro e di garantire ai giovani in relazione alle loro vocazioni cioè ai giovani tutti la possibilità di accedere a competenze superiori se però il percorso non è solo quello liceale ma i percorsi sono molti compreso un contratto di apprendistato che devi poter fare da 14 anni e non ritenendo quella una strada meno socialmente riconoscibile dell'altra ritenendola avere la stessa dignità dell'altra quanto ha pesato la legge Fornero? la legge Fornero è stata un disastro oggettivamente non era neanche difficile prevederlo perché io non la votai augurandomi di sbagliarmi a voce alta in Parlamento però ritenendo che la previsione fosse fin troppo facile è stata una legge come dicono gli economisti pro ciclica come la legge Biagi la legge Biagi fu pro ciclica in un ciclo favorevole dell'economia ma di crescita moderata alzo la propensione a fare lavoro cambiò in meglio il coefficiente occupazionale della crescita cioè quanto lavoro si produce per un incremento qui invece è esattamente l'opposto è stata una legge che ha incoraggiato la contrazione dei posti di lavoro in una stagione negativa dell'economia dai un suggerimento al tuo successore Giovannini più cancella la legge Fornero più fa flessibilità regolatoria più fa lavoro fino adesso che voto gli dai? non classificato ah però avrei dato 6 al governo nel senso che aspetto ancora un provvedimento che adesso ha promesso entro la fine dell'anno la stai medicando no in questo senso nel senso che il voto lo do alla luce di questo provvedimento che dovrebbe essere disegnato sulla base della prospettiva dell'esposizione universale io credo nell'esposizione universale ci credo più che per convinzione ma soprattutto per convenzione cioè penso che questa nazione che si è in qualche modo persa si debba ritrovare intorno ad un evento che dobbiamo tutti adottarlo decidere di considerare quella deadline quella data catenaccio come il giorno entro il quale ci rinnoviamo ci rimettiamo in movimento cogliamo ottimismo per lo scogliarsi cogliamo quelle opportunità anche oltre la loro oggettiva dimensione per fare cose che altrimenti pigramente tenderemmo a non fare bene abbiamo bisogno però di regole più favorevoli e le regole hanno un vantaggio non costano e come diceva Marco Biagi non esiste incentivo finanziario che possa compensare un disincentivo normativo da legge o da contratti prendiamo gli incentivi ai contratti a tempo indeterminato ma qualcuno si sposerebbe per il solo fatto che gli regalano il vino del banchetto di nozze non credo ovviamente no e qualcuno si sposa con un lavoratore per il fatto di avere un modesto incentivo finanziario ovviamente no senti abbiamo solo due minuti io ho bisogno di farti una domanda a Maurizio e non a Sacconi parlamentare io ti conosco bene lo sai ci conosciamo da tanti anni hai sofferto questa decisione? si questo è evidente perché ti sei macerato? si perché il legame ma devo dire io come ho visto credo tutti cioè ciascuno di noi in modo diverso l'uno dall'altro ha una ragione di legame profondo con Berlusconi è stata un'occasione anche per rivedere un attimo quello che hai fatto in questi vent'anni tu hai fatto la prima repubblica sai che c'è una bella differenza con la seconda si come ho detto io la seconda repubblica è figlia del trauma che non è stato sanato ho capito sono passati anche vent'anni c'è una spiegazione e ho capito non è che uno può vivere sempre di trauma e dopo vent'anni però ancora non dedichiamo una piazza del centro di Roma per dieci anni a governo una piazza del centro di Roma a Bettino Craxi come sarebbe giusto fare e ad altre vittime del colpo di Stato ti sei fatto un po' di autocritica per questi vent'anni o no? ma certo che sì ho fatto prima una battuta sulla giustizia io che sono che aderi immediatamente spontaneamente a Forza Italia dal Partito Socialista innanzitutto per per la difesa dello Stato di diritto per la difesa delle garanzie per la difesa della libertà che non è retorico richiamare sono insoddisfatto di ciò che abbiamo prodotto dal punto di vista proprio della giustizia nel corso di questi vent'anni senti tre domande flash per concludere fra poco salirà sul palco il professor Calabrese sei mai andato a dieta a fare una dieta da lui? no però l'ho ascoltato molto nelle trasmissioni televisive hai fatto tutto il contrario no 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 soprattutto nelle occasioni che ho avuto anche di colloquio diretto ho assorbito moltissimo facciamo un gioco veloce allora perché come dire lo dico a te soprattutto che avresti bisogno sì dopo guarda tanto mi fa già un mazzo così lui dopo quindi non ti preoccupare che non ti da pesci ma carne per pescare questo è molto importante da me mi date i pesci in faccia ma è un altro discorso a quale collega consiglieresti una dieta antistress? a Fabrizio Cicchitto per esempio con molto affetto a chi voglio bene a quale collega daresti una dieta senza carne per diminuire l'aggressività io ce l'avrei io ce l'avrei in mente ma come faccio a scegliere dobbiamo dovrei estrarre a sorte dovrei estrarre a sorte no ma ti segnalavo eh Brunetta che dici? no io sono troppo amico di Renato ho condiviso una vita politica e il digiuno meditativo a chi lo consigli? a Galan certamente quel precedente consiglio Maurizio Sacconi grazie di essere stato con noi diamo una mano al PIP con la pubblicità ci vediamo fra poco state con noi ci sarà il professor Calabrese bentornati a Roma incontro a Rapacis buonasera a Giorgio Calabrese medico dietologo autore di un libro con la psicoterapeuta Paola Vinci Guerra che si chiama Stress e dieta siciliano 62 anni siciliano di nascita ma piemontese adozione Calabrese è il medico nutrizionista più famoso d'Italia i suoi detrattori dicono che sia per colpa di Vespa i suoi segaci dicono che meno male che c'è porta a porta io penso che quel furbone di Vespa lo usi quando lo share scende di porta a porta perché lui fa sempre un casino infernale litiga con tutti i suoi colleghi più o meno presunti o famosi e a quel punto lo share di porta a porta sale non sembrerebbe mai bulimico di lavoro perché insegna in diverse università fa il consulente è il dietologo ufficiale della Juventus scrive su giornali riviste partecipa a tutte le trasmissioni radio telefoniche televisive tutto insomma è onnisciente è persino presidente dell'organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino solo che io ho detto tutta sta roba qua perché ho questo affare qua vedi che insomma eh che sa guarda siccome sono mesi che devo venire da te allora dai vieni mi tolgo le scarpe però eh perché le scarpe sono una fregatura se metti 80 io vado sempre con gli anta non vorrei passare con gli ento vai sotto vado sotto non arriviamo agli ento ma finiamo con l'anta decidete voi se metti un sacco di vestiti un 6 un 7 un 8 quello che volete quanto mi togli per i vestiti almeno 15 kg ecco appunto anche 20 mi sono messo sono i vestiti pesanti poi c'ho poi c'ho il microfono che pesa le calze della nonna c'è un sacco eh le calze della nonna ma no ma dai su no per dire no ma mi avevi lasciato che ero sopra i 100 adesso sono sotto direi che hai fatto un passaggio positivo ma estremamente lento no vuoi sapere la verità sì ero andato molto più sotto poi ho recuperato perché tu c'hai il cioccolato che io sì ma mi hanno detto che mi facevi una dieta solo cioccolato e gelato era una promessa della prima repubblica non mantenibile nella seconda repubblica hai capito c'è la prima repubblica di mezzo vabbè senti dottore ma è però un mestiere un po' ingrato quello di fare eh di rompere le scatole al prossimo dicendo non mangiare questo non mangiare quella non mangiare quella eh direi che io ho guardato la parte positiva il problema non è non mangiare ma è mangia questo che è diverso dal non mangiare per gente come te che è gaudente spesso il concetto del mangia questo corrisponde col non mangiare perché io dico sempre che quando dici non mangiare è un po' come la politica non dai un progetto io tento di dare un progetto ci metto dentro io non ci credo che tu non ti sei fatto ancora del tartufo il tartufo l'abbiamo fatto ma la cosa attenzione però mentre gli altri si lo fanno con i taglierini noi l'abbiamo fatto prendendo il cardogobbo e ce li abbiamo messo sopra il tartufo il cardogobbo è come il carciofo quindi 10 calorie per 100 grammi il tartufo ne ha 5 è un cardo andriottiano il cardogobbo eh beh in effetti infatti guarda che proprio l'altro ieri ho preso il premio il cardogobbo l'anno scorso l'aveva preso Carlin Petrini ma loro ancora rimpiangono perché il primo cardogobbo è proprio dovuto essere proprio Andreotti senti un po' ma perché in televisione devi litigare sempre con te io non litigo io sono polemista per un motivo in molte trasmissioni se mi vedete io non alzo mai il tono della voce sapete quando alzo il tono della voce quando ogni volta che parla un tuo concorrente no 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 mai perché se tu io ti do tutti i nomi dei colleghi che sono più bravi di me e che lavorano molto bene con scienza e coscienza ci sono alcuni che sono dimagrologi noi siamo dietologi nutricionisti che vuol dire ma questa del dimagrologo non l'aveva preso lo so perché spiego il perché perché loro si preoccupano soltanto che tu vai lì e dici io devo togliere tutti questi chili e la chiude lì sto bene sto male però scusa quella volta che hai mandato quel paese quel povero lemme quello che dice che bisogna mangiare quello non è povero poveretto nel senso di poveretto perché l'hai conciato lui dice semplicemente che devi mangiare la pasta al mattino lui dice quella cosa lì per poi dare continuamente la dieta iperproteica quello che l'altro ieri è successo con Ducan che qual è il concetto è un altro che hai mandato quel povero ma no ma perché la settimana scorsa quando noi abbiamo fatto questo poi lui in effetti sia prima di entrare che è all'uscita mi ha detto tanto io vendo i libri a me non interessa che poi attenzione gli ho detto perché quando la gente sta male e con quelle diete si sta male guarda che puoi avere dei problemi ti faccio un elecco di cose e tu mi dici Tisano Reika Gianluca Mec ma fai così non lo so giù Ducan vabbè lei già però scusa per esempio Tisano Reika Valeria Marini Belen non è che fa proprio male guarda se dovessimo fare un parallelo non vorrei essere irriverente ma sai quanta gente usa la droga e sono anche di spettacolo se partissimo da questo siccome lo usa la star allora la droga va bene la droga va sempre male compreso lo spinello chi lo usa sbaglia tutti i drogati gli altri Penelope Cruz va da Ducan io non contesto Penelope Cruz contesto casomai il dire il dire che faccia quello tipo di nella zona guarda che ci sono delle mie assistenti che la fanno mi hanno detto che devi parlare bene della zona così eccola la beccatrice abbiamo avuto gli scontri con Beresir quindi non è che macrobiotica anche Madonna fa è una dieta della Madonna è un fatto culturale in cui Okinawa chi la inventò partì dal concetto che se noi mettiamo alcune cose alla fine dove si riduce il tutto se io vendo delle cose e tu le compri quella dieta funziona il nutrizionista clinico non deve vendere nulla deve soltanto dare dritte scientifiche perché ricordiamoci sempre esiste l'obeso esiste anche il magro esiste quello che ha solo il colesterolo alto esiste quello che ha la pressione alta e non per forza deve essere un obeso poi c'è la dieta con niente glutine poi eat clean poi cinque fattori no no vedi il concetto di fondo è questo quando noi facciamo un presidio terapeutico dietetico noi stiamo facendo come se dessimo dei farmaci ma in dieta non bisogna mai dare farmaci e il concetto è questo se io la pressione alta anche fossi magro e i miei grassi saturi fossero più alti la dietetica del dietologo nutrizionista clinico va a a correggere quel concetto lì se tu prendi uno di questi Dukan Berry Sears Tisanorek attenzione questi non sono medici Dukan sì che è un neurologo gli altri no gli hai detto che l'hanno mandato via dall'ordine dei medici no l'ho detto io non solo l'ho detto ma non è venuto fuori quello che doveva venire non solo è stato mandato via dall'ordine dei medici lui è stato condannato dopo questa cosa qua perché aveva utilizzato un farmaco per far dimagrire una signora per sette anni gli ha portato le ricette e lui dice ma no ma quello è uno scherzo cioè perché il concetto di fondo qual è quando noi facciamo i medici il paziente deve andare dal medico sapendo che o resta com'è o migliora se rischia quello non è più un buon lavoro medico quello è un atteggiamento di secondo me io non amo la frase secondo me questo è secondo la scienza non secondo me modesto lui e la scienza sono no 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 io mi attengo a ciò che la scienza mi dice ben lontano da me senti un po' ma se hai fatto così a queste qua che sono famose quelle tipo quella del minestrone quella della pasta asciutta al mattino quella abbiamo detto quella la paleolitica noi cibi raffinati quella della bibbia ma sai quanto ce ne sono del limone dell'uva di Shangri-La ma io non posso mica dire dopo a tre dico che invece è tutto bene se ce ne sono 300 su 300 che sono sbagliati c'è una dieta che non fai tu che ti piace no no è la dieta mediterranea che non l'ha fatto io non l'ho inventata io l'ha inventata un americano figurati quella la proponi tu però io la propongo da 36 anni da quando faccio il dietologo perché io che vado anche in America ho visto la Michelle Obama che ha sottolineato il concetto sui bambini soprattutto che bisognava fare una dieta in cui ci fossero i vegetali la fibra vegetale la frutta che si muovessero questi bambini questa è la dieta mediterranea che si allega anzi ti annunzio che sto scrivendo con mia moglie un libro che uscirà a febbraio come dimagrire con la dieta mediterranea ecco Manu guarda un po' senti ma do i dettagli gli estremi le cose estreme no hai visto che adesso c'è un po' di gente che va in giro col sacchettino la cosa nel naso oppure dice che negli Stati Uniti ha spopolato un cerotto che si cuce sulla lingua e che inibisce questo l'avevano fatto già ai tempi del Medioevo se ti cuciono la bocca fa male di prima ma quello del sondino devo raccontarti una cosa un giorno io mi trovavo in via Veneto vicino dove abitavamo con mia figlia a un certo punto vedo 3-4 di queste che escono allora ho chiamato un vigilo urbano e ho detto guardi che questi sono scappati da un reparto di rianimazione perché pensavo che fosse successo non so qualcosa e quello mi dice scusi perché dice questo perché c'è questa gente non può stare così oltretutto è antigenico e quando quello mi ha detto scusa voi come mai e loro hanno risposto ma noi stiamo facendo una dieta una dieta e che dieta è ah noi abbiamo la macchinetta mettiamo le proteine a parte che posso dire quella macchinetta oltretutto dava fastidio costava tanto e contemporaneamente bastava prendere ogni quarto d'ora un bicchiere di quelle proteine e berlo non c'era mica bisogno di mettere il sondino anche questo io dico ma la gente capisce o no? io con il sondino proprio guarda figurati sono contento sai che svengo per un'iniezione finora sono contento però insomma e i vegetariani e i vegani allora che lo sono io sono un vecchio democristiano avevo trovato la formula della dieta democristiana che era sempre prima repubblica prima repubblica io vengo vengo da una famiglia in cui vicino vicino c'era Giorgio Lapira quindi attenzione quindi gente che di alto livello gente seria gente seria bravo e il discorso qual è? che se io dico mangiamo la carne e l'altro mi dice mia figlia che va fa il medico e dice vada da cavallo non mi parlare di mangiare la carne benissimo allora ok l'altro dice non parlarmi dei pesci perché ho l'acquare benissimo noi troviamo il vegetariano ovo latteo l'uovo e il latteo sono delle sostanze che vengono fuori dal corpo dell'animale senza ucciderlo senza creargli dei problemi e ho trovato i vegani cioè un fatto ideologico che non erano d'accordo ma porca miseria dico ma non riusciamo a trovare l'acquadra perché per i vegani non c'è niente no i vegani c'è solo frutta, verdura legume e cereale punto ecco se uno mangia solo quello che gli succede? vi spiego una cosa qual è l'idealità del vegetariano? mangi pochi grassi saturi mangi una certa quota di proteine che sono legate tra i legumi e i cereali che bene o male insomma tutto sommato possono anche non sono l'ideale ma si avvicinano quando tu hai questo tipo di percorso che cosa succede? che hai anche che cosa mangi? al mattino mangi cereali a pranzo mangi legumi prendi un sacco di fibra la buona fibra non deve superare i 25-30 grammi al giorno perché? fa assorbire meno zuccheri e meno grassi ed è perfetto l'intestino va regolarmente tutto bene ma quando io ne metto 50-60 grammi cosa faccio? ferro già non dando la carne ai prodotti di origine animale non ne do o se do una forma di ferro è una forma non positiva il calcio che serve soprattutto per la donna in menopausa dovrebbe entrare soprattutto in quel periodo ma quando tu hai molta fibra sequestri nell'intestino il calcio il ferro lo zingo il selenio le vitamine idrosolubili a quel punto tu hai fatto che hai messo la benzina nella tannica hai rotto la pompetta C e il motore ti dice e la benzina? e tu dici ma ho speso mille euro di benzina ecco qual è il grande problema io non ce l'ho con i vegetariani dico che fanno molto bene purché siano ovolate i vegani non vanno bene i carnivori puri non vanno bene vabbè ma Veronesi però non è proprio un fesso Umberto Veronesi ma Umberto come lo classificheresti tu? ma lui dice di essere vegetariano mi piace la parola dice vabbè dice perché non sono mica a mangiare tutti i giorni con lui io non contesto però io ti dico anche tu dici che fai il virtuoso poi secondo me sotto sotto ma chissà la virtuosità io non penso che sia l'elemento fondamentale per l'uomo e la tendenza qual è la volta che hai proprio fatto eh? hai strafatto guarda io ho un dolce un dolce che mi piace che è la mousse di cioccolato eh e poi i dolci fino in fondo non mi piacciono e questa no l'aveva fatto mia moglie che è bravissima in cucina perché è una ancora tutta una tecnologa alimentare e aveva fatto sta cosa ma io mi ricordo sono passati 15 anni posso ogni 15 anni fare una vabbè ma no scusa vedi tu mi hai detto quella volta perché il concetto di fondo qual è quando devi sbaccare esiste la regola perché esiste perché esistono le eccezioni io sono l'uomo del sabato del villaggio ma l'eccezione non è un'eccezione no no è un'eccezione io sono l'uomo del sabato del villaggio io studio Schopenhauer da tanti anni e ho capito che l'interprete principale è Leopardi il quale non era un poeta ma era un filosofo come lui solo che faceva le poesie per dire la filosofia ma è un anoressico lui no no Leopardi non stava bene ma capiva la vita infatti fece il sabato del villaggio pensa quante volte tu immagini qualcosa e se tu la raggiungi è come essere la domenica sera pensando a lunedì parte della vita non sono per la trasgressione sono per l'errore errore morale moralmente sano perché l'errore trasgressivo non mi sta però l'errore allora io sbaglio più volte la settimana no ma un cibo un cibo un cibo che non è più non è una trasgressione quella è la regola la trasgressione è quando indovini adesso non esagerare sarei oltre i 100 bravo avrai fatto bene molto bene molto bene eccomi senti ma lo stress quanto incide? è scritto un libro sullo stress lo stress incide molto perché c'è un meccanismo facile facile se io sono molto stressato in negativo produco adrenalina che è un neuropeptide un ormone che mette in condizione di avere una produzione da parte del pancreas una ghiandola che è coricata sotto il nostro ombelico di insulina l'ormone insulina in genere cosa fa? prende gli zuccheri che noi mangiamo li brucia e li fa diventare energia come quando i pistoni del motore bruciano la benzina e la macchina va quando invece abbiamo troppa adrenalina c'è troppa insulina anche se non mangi tu ingrassi quindi se poi mangi uno più uno fa cinque non due ma gli italiani come mangiano secondo te? secondo me bene nell'ottica della qualità ancora oggi male nel rapporto giusto fra le pare proporzioni per cui noi dobbiamo dare agli italiani un'azione educativa io ho continuato a dire sono in alcune commissioni ministeriali e ho continuato a dire ai vari ministri non si può dire a un popolo civilissimo come quello italiano e di grande cultura dovete correggere il colesterolo dei trigliceridi se non ci sono gli addetti ai lavori gli addetti ai lavori attenzione non sono i medici sono i medici che hanno studiato dietologia all'università perché la classe medica italiana è la migliore classe medica del mondo per fare i miracoli per fare la normalità dire a uno per fargli capire un ottimo medico di famiglia che ti ha salvato la vita cinquanta volte tu gli dici ho il colesterolo alto la prima cosa che ti toglie è il latte che ha tracce di colesterolo i formaggi ne hanno tante e ha tanti trigliceridi questo è un fatto di cultura e l'università noi non la studiamo noi che ci insegniamo all'università lo spieghiamo agli specializzanti ma non lo spieghiamo ai giovani università a proposito di formaggio non c'è una dieta a base di formaggio la dieta a base di formaggio esiste e sapevo che ti interessa però serve quando tu vuoi eliminare un paziente ma siccome il medico lavora per migliorarlo non esiste cioè quindi la volta che mi darai come dieta i formaggi vuol dire che mia moglie ti ha convinto a farmi fuori io ho un rispetto per tua moglie sacro come fosse una sorella e mai lei ha avuto questi sentimenti certo che in certi momenti con lei è avuto successo perché è andata giù di tanti chili ma perché lei è una persona che sa che cos'è la trasgressione e cos'è la regola tu sai soltanto la parola trasgressione ecco va bene però senti a proposito di tornare agli italiani mi ha colpito una ricerca a Eurisco che è uscita qualche giorno fa che dice che solo il 15% degli italiani assume una giusta quantità di frutta e verdura è vero dici una grande quindi vuol dire sei stato bravo nell'andare a centrare questo meccanismo questo è un popolo che non ha più i soldi per comprare frutta e verdura mi dai allora un po' di gelatino in più guardalo è terribile subito il ricatto è un popolo che non ha più i soldi per comprare frutta e verdura infatti l'unica frutta e verdura che si può comprare è quella che arriva dall'estero allora andate a filiera corta a chilometro zero andate a comprare la frutta da nonna Giovannina e nonna Margherita perché loro non danno il passaggio la grande distribuzione ci ha creato un sacco di problemi ha fatto tante belle cose ma oggi ci ha creato un sacco di problemi bisogna andare a comprare la frutta e la verdura di stagione del territorio che costa poco a chi la produce poco a chi la compra diciamo a chi la vende e poco a chi la compra a quelli della Juventus che vincono troppo spesso per i miei gusti meno male tu sei contemporaneamente dietologo della Juve e tifoso della Juve assolutamente sì tutti i difetti sono sanamente juventini ma cosa gli dai a parte le bombe che secondo me le bombe noi non abbiamo mai dato bombe alla Juventus c'è stato un momento in cui negli anni passati un medico con molto onestà disse io gli do la creatina e disse ascolta la creatina la produciamo noi invece di dargliene tre grammi gliene do di più e questo fu tutti erano convinti che fosse un doping voi lo sapete che se voi faceste come fa Maurizio Sacconi il tennista diciamo di professione professionista perché lui fa il parlamentare voi giocaste a calcio nella Roma nella Juventus andaste a fare il doping e aveste preso cinque caffè invece che tre sareste dopati uno dice ma come il caffè il caffè dopo cinque tazzine in un atleta prima della gara è doping cioè quella squadra perde la partita quel giocatore viene squalificato perché si è dopato uno dice sarà messo addosso gli anabolizzanti avrà preso le droghe no no ha preso cinque caffè invece che tre quindi questo è un meccanismo che noi dobbiamo spiegare c'è uno che lavora con me che ce ne prende quindici al giorno allora tu fagli l'antidoping e vedrai che tu lo butti fuori o gli metti lo stipendio adesso mettono l'antidoping anche in ufficio esatto senti ma che effetto ti fa il fatto che in televisione si parli sempre di queste si fanno le trasmissioni sulle diete che tirano gli chef stellati che fanno le trasmissioni diventano delle star che effetto ti fa? posso dire che io mi sento diverso dal concetto degli chef tu non fai mangiare loro fanno mangiare no non solo attenzione ci sono no no c'è una cosa più grave esistono degli chef che fanno mangiare poco ti ricordi la Nouvelle Cuisine e che fanno pagare quattro volte tanto quindi non è come dici tu fino in fondo il concetto di fondo è questo noi nutrizionisti siamo coloro che debbono dare le linee guida e le linee guida si danno scendendo sul campo perché se tu incominci a dire sempre diamo meno proteine diamo meno grattie e poi gli altri dicono ma fammi capire noi dobbiamo spiegargli noi dobbiamo fare educazione alimentare noi dobbiamo avere il coraggio di dire agli altri che il nostro popolo è il più longevo perché c'è dietro la dieta mediterranea il buon cibo però se i cuochi partono col concetto che devono diventare molto americani allora questo è un discorso che va al contrario per cui quando io vedo alcune trasmissioni in cui il cuoco per essere bravo deve essere solo cattivo io non lo condivido qualcuno dice ma anche tu sei cattivo no no io sono cattivo con coloro che raccontano storie voi mettetevi vicino il professor del Toma il professor non so di Amici il professor Sorrentino c'è tutta gente di alto livello onesta brava e più brava di me io non litigherò mai perché dialoghiamo poi uno può vedere un po' la cosa dalla parte della Juventus e l'altra dalla parte della Roma ma il calcio è quello cioè che se tu hai fatto un gol regolare è regolare se non l'hai fatto regolare non è regolare invece qua vogliono far passare che tu fai il gol con le mani sei un centroavanti e poi alla fine dici che invece è giusto perché l'ha fatto lui che è bravo che è bello mi ricorda qualcosa per la Juventus ma va bene lasciamo stessi no no a saperdi senti ma diciamo se tu dovessi dare un suggerimento so che il tuo principio è ogni persona ha una dieta diversa esatto ma un suggerimento generale direi mangiate 5 porzioni di frutta e verdura al giorno colazione frutta può essere uno spuntino di frutta un pomeriggio di frutta sono già 3 porzioni se volete aggiungere siamo già la frutta tu ci vuoi far mangiare la carta no 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 aspetta questo è fondamentale a pranzo e cene metteteci della buona verdura differenziando con quelle di stagione quelle che costa poco ma che è molto buona attenzione però alle cattive compagnie perché se io la frutta la frigo cioè si frequentano medici io ho visto in un ristorante che fringevano la frutta e perché? la famosa banana flambè capisci oppure la verdura fritta a quel punto il problema non è la frutta non possiamo dire la frutta fa male possiamo dire i fiori di zucca fritti ripieni di mozzarella ecco lo vedi questa è provocazione pura quello è un fatto non vuoi mettere è un fatto antisalutista tu non mi sentire grazie ecco è un fatto antisalutista quindi noi dobbiamo dire mangiamo frutta e verdura però devo dirvi ancora una cosa per favore camminiamo almeno 40 minuti al giorno camminiamo camminiamo provatelo dopo un mese solo camminando senza cambiare la vostra alimentazione vedrete che avete poco bisogno del dietologo me compreso senti facciamo una cosa però adesso non mi rispondo al dietologo ecco Sacconi è di Conegliano quindi cosa scegliamo? risi e bisi ecco io sono genovese quindi il pesto adesso dopo di te arriva uno scrittore cotroneo che è piemontese bagna cauda bene cosa scegli? bagna cauda perché sei piemontese pure anche te tu sei nato in Sicilia sono nato in Sicilia ma da 36 anni sono ad Asti e l'altra sera mi premiavano proprio col cardogobbo che è classico della bagna cauda bagna cauda è un momento di esaltazione della storia della tradizione di questa meravigliosa terra piemontese ma se invece del cardo ci metti dentro un po' di focaccia genovese non va bene non va bene il cardo sì perché ha 10 calorie certo che è buonissima la pizza però la focaccia però non va bene si chiama focaccia non si chiama più va bene la focaccia non confonde sì va bene in conclusione mi dai una dieta a base di gelato? io ti do un gelato nella dieta e non una dieta a base di gelato è un gelato ogni quanto? ogni giorno un gelato alla frutta alla frutta di quelli senza no il gelato alla frutta quello è buono e creme? creme no neanche una volta alla settimana? una volta alla settimana si può fare ma poi la sera mangi solo frutta l'ho spuntata ecco vai grazie a Giorgio Calabrese grazie ci vediamo fra poco diamo una volta al te con la pubblicità ci rivediamo qui con un nuovo ospite Roberto Cotroneo bentornati a Roma incontra Rapacis buonasera Roberto Cotroneo scrittore giornalista autore per Bonpiani di Betti 52 anni di Alessandria due figli Cotroneo è un importante giornalista culturale è stato responsabile delle pagine culturali dell'Espresso ha scritto sotto pseudonimo come critico letterario per il Sole 24 Ore è una rubrica settimanale su sette ha condotto molte trasmissioni radiofoniche e televisive è direttore della scuola di giornalismo della LUIS dove non mi chiama più non so bene perché forse perché sono un professore cattivo ma me ne vanto di essere un professore cattivo nel senso che bisogna essere poco indulgenti ha una vera vena di romanziere una di saggista e la vena di romanziere lo ha portato a quest'ultimo libro che è ambientato nel 1987 George Simenon che è l'autore dell'indimenticato commissario Megret è vecchio malato torna nell'isola di Porcherolo in Costa Azzurra lì incontra una giovane donna Betti e vai avanti tu e lì incontra una giovane donna Betti anzi non la incontra nel senso che la incontra attraverso delle fotografie che gli porta un fotografo lui è ormai vecchio due anni dopo sarebbe morto è stanco va in quest'isola che ha amato tanto nella sua vita perché negli anni 30 ci andava spesso e ci va come ultimo viaggio in qualche modo nostalgico della sua esistenza e lì si presenta alla sua porta un giovane fotografo Mark che gli dice maestro io so che lei è qui io vorrei fotografarla lui dice io non mi faccio fotografare lei non non voglio che lei certifichi il mio degrado quindi se ne vada poi ci ripensa e dice ma no guardi faccia una cosa siccome io non posso camminare Porcherolo è un'isola dove non ci sono automobili quindi difficile per un uomo anziano che faceva fatica a camminare dice faccia per me le fotografie alla gente dell'isola e lei diventerà il mio occhio sull'isola il ragazzo è naturalmente entusiasta che il grande Simenon gli chieda questa cosa e comincia a scattare delle foto in queste foto c'è sempre una donna che incuriosisce Simenon e gli chiede chi è questa donna è una donna di 40 anni molto bella affascinante e dice non è dell'isola la chiamano tutti Betty ma non si chiama Betty soltanto che Betty è il titolo di un famoso romanzo di Simenon con una protagonista appunto Betty che ha una vita molto travagliata molto dissoluta un romanzo nome gre diciamo nome gre sì quelli che lui chiamava i romans d'urre e a un certo punto questa Betty viene trovata morta in mare e lì Simenon dice io che non avevo si trattava di condurre un'inchiesta io non avevo mai condotto un'inchiesta l'avevo solo scritto e quindi a quel punto vanno tutti a parlare con Simenon per capire che cosa è accaduto ma c'è qualche elemento di vero in questa storia assolutamente nulla te lo sei inventato tutto completamente e come ti è venuto eri un amante del maigret e quindi fare gli scrittori è una cosa da megalomani cioè nel senso che è necessario avevo avuto un sospetto ma è necessario essere megalomani quando scrive e sarebbe opportuno non esserlo dopo che hai scritto cioè nel senso che se uno scrive un romanzo non è che puoi dire scrivo un romanzetto un po' così come mi viene se scrivi un romanzo scrivi un romanzo punto dopodiché dovresti dopo essere un minimo misurato e quindi parlare alla gente non come se tu fossi un vate ma come una persona normale io avevo ogni volta una scommessa il mio amico Umberto Eco mio concittadino quando gli chiesero come mai lei a 48 anni dopo aver scritto saggi su saggi cose del genere ha scritto questo saggio questo romanzo che si intitolava Il nome della Rosa e lui rispose alla Eco perché volevo avvelenare un monaco punto allora funziona così cioè voglio dire io ho scritto il mio primo romanzo nel 95 perché volevo essere il più grande pianista vivente questo romanzo io volevo scrivere come simenone infatti è simenone c'è la storia è questa persona che va in quest'isola e a un certo punto cena a Lescal che è uno degli ristoranti di Porcherolle e c'è un quaderno nella sedia accanto dimenticato lui lo prende lo guarda sembra un manoscritto lo dà il signore del ristorante e il signore del ristorante dopo due o tre giorni lo ridà gli dice guardi non ci capiamo niente lo guardi lei ed è il manoscritto di simenone senti ma perché lei definito il romanzo dei perdenti perché in quel caso simenone è nella parte diciamo di caduta della sua esistenza del suo fisico guarda io volevo salvarlo simenone cioè c'è un episodio della vita di simenone assolutamente drammatico nel 1970 nella vita vera sì nella vita vera simenone si sposa due volte la prima volta con una compagna di scuola che si chiamava Tigi da cui ha un figlio Marc poi nel 1946 è stato un uomo pensa che lui ha venduto nella sua vita 700 milioni di copie dei libri è il terzo autore di Francia più venduto in assoluto con Jules Verne e Alexandre Dumas non tanto per capirci è un uomo che ha avuto come dice lui 700 milioni di copie vuol dire che sei dietro la Bibbia e poco o poco o altro ha avuto come dice lui 13 mila donne le pagava non era difficilissimo anche perché con i diritti l'autore ha venduto tanti libri ma se li poteva permettere ha avuto una vita intensissima ha vissuto 10 anni negli Stati Uniti eccetera eccetera quando va negli Stati Uniti incontra questa donna mi viene in mente Cassano che ha detto che ne ha avuto 700 proprio un poverazzo ma non aveva neanche venduto 200 mila copie dei suoi libri effettivamente e lì sposa in America questa Denise da cui ha tre figli Pierre, John che sono ancora vivi e Marie-Jo Marie-Jo è innamorata follemente di suo padre e nel 78 si suicida e lui scrive lui che aveva smesso di scrivere da anni cioè un uomo che aveva passato la sua vita a scrivere io credo che neanche lui abbia letto tutti i suoi romanzi perché nessuno sa contarli tra quelli scritti con maigret quelli normali quelli con pseudonimo ma ci aveva come si dice molto volgarmente in giornalistese un negro che scriveva li scriveva tutti lui aveva una velocità mostruosa e voglio dire lui che aveva scritto tutto nella sua vita ormai da anni aveva detto io non scriverò più nulla e anche questo è fascinante cioè voglio dire dice tanto vale copiare il dizionario le parole non hanno senso che è detto da uno come lui che ha scritto milioni di pagine no? allora lui rompe questa promessa e scrive le cosiddette memorie intime che sono la sua biografia scritta per la figlia di circa 1300 pagine ma in questa biografia lui non salva la figlia la figlia per dare un'idea del rapporto che avevano la figlia quando aveva 8 anni chiede al padre di regalargli una fede una vera d'oro che gli viene comprata e il padre e lei vuole che gliela metta il padre la fede all'anulare no? naturalmente essendo piccola questa fede viene allargata nel corso degli anni e lei ogni volta che fa allargare la fede va da suo padre per farsi rimettere la fede all'anulare questo simbolicamente fa abbastanza impressione quando lei si suicida chiede al padre di essere cremata ma di essere cremata con quella fede quindi in questa storia terribile io entro con Simenon nell'87 quando ormai è distrutto dal dolore di questo evento e voglio in qualche modo mettere in collegamento e questo non lo posso raccontare perché è un giallo vero voglio mettere in collegamento la morte di Mary Gior con questo personaggio di Betty ed è questo il collegamento ho capito senti ma ma c'è un quindi un personaggio di grande successo che però negli affetti personali ha inciampato in una storia esatto questa è una contraddizione secondo te adesso al di là di Simenon è una roba come dire che tocca quelli di successo è una cosa c'è questa stranezza vera nel caso di Simenon è chiaro cioè Simenon è stato uno scrittore di caratteri e di psicologie come lo sono spesso i giallisti ma lui in particolare modo è ovvio è evidente cioè uno che aveva capito tutto uno che poteva in due righe tratteggiare il carattere di un uomo in una maniera straordinaria e poi lui non capisce davvero quello che gli accade nella vita cioè al punto che quando tu leggi le memorie intime che non sono un romanzo ma sono un'autobiografia rimani colpito resti colpito da una semplicità da una non dico banalità ma quasi una superficialità nel raccontare se stesso la sua vita che non ha nulla a che fare con la grandezza dei suoi romanzi Simenon è probabilmente uno dei cinque più grandi scrittori del novecento non c'è dubbio non ce la fa allora questo rapporto strano tra arte e vita e tra letteratura e vita è un rapporto su cui io volevo scrivere qualche cosa cioè spesso gli scrittori ci sono gli scrittori più intelligenti dei propri libri e scrittori meno intelligenti dei propri libri spesso accade che gli scrittori più bavi siano meno intelligenti dei loro libri tu sei più intelligente tu o il tuo libro naturalmente il mio libro perché è in vendita in questo momento ma certo fra qualche settimana quando sarà qualche mese poi dopo divento di nuovo intelligente io ma certo questo è ovvio mi sono sempre domandato se Simenon conosceva Gino Cervi perché io Megret senza Gino Cervi non lo vedo qualcun altro credo l'abbia interpretato ma proprio per me Megret e Gino Cervi sono la stessa cosa io penso che a casa quello facesse Gino Cervi nel suo privato si comportasse come se fosse Megret fumasse la pipa dicesse signora Megret a sua moglie signora Cervi dunque Simenon conosceva Gino Cervi c'è una bellissima foto della fine degli anni 50 primi anni 60 con Simenon e tutti Megret attori di tutto il mondo quello inglese quello francese quello americano con cui lui si fa fotografare e lui amava molto Gino Cervi diceva che era uno dei Megret che più gli corrispondeva senti ma se hai detto che hai scritto di Simenon perché era un grande scrittore quindi in qualche modo c'è un rapporto tra te e lui avendo scritto dei libri sulla musica hai fatto un libro su Chad Becker uno sui Beatles volevi anche essere un musicista uno su Chopin io ho studiato 10 anni pianoforte e non suono in pubblico più perché è meglio meglio per il pubblico meglio per il pubblico sì però suono ancora spesso insomma ho studiato ho iniziato a suonare la musica è stata importante anche per la costruzione delle frasi per me perché ti senti più scrittore o più giornalista? domanda da un miliardo di dollari ma sì forse un po' più scrittore perché io sono stato un giornalista tipico io ho sempre fatto la cultura poi dopo o meno perché poi dopo ho fatto anche delle cose un po' diverse però devo dire per più di quasi io ho lavorato quasi 23 anni 24 all'Espresso e devo dirti ho fatto molto la cultura e quindi era molto attico che condizione è la cultura in Italia secondo te oggi? ma sarebbe facile dire che è disastrosa in realtà io non credo che sia disastrosa io credo che sia disastroso il modo in cui è trattata la cultura non la cultura perché questo è un paese di persone brave colte che fanno delle buone cose ma che non riescono a trovare ascolto da nessuna parte però pensi che sia da un po' che non nascono più i grandi talenti? i grandi talenti vanno riconosciuti cioè voglio dire il vero la vera la vera paura è che se domani arriva Fellini la gente non se ne accorge e questo è il problema un tempo c'era non se ne accorge il pubblico o non se ne accorge la critica? non se ne accorge la critica non se ne accorgono i produttori voglio dire è come nei giornali cioè nei giornali tu sei bene voglio dire il livellamento è sempre più estremo cioè nel senso che un tempo gli eccentrici facevano i giornalisti oggi stasera io lo vedo con i nostri allievi tra l'altro tu siccome fai il secondo anno non è che non ti chiamo più salto uno allora tu lo vedi anche tu più sono eccentrici più uno dice questi non ci entrano in un giornale mentre ai nostri tempi se egli eccentrico c'entravi a come in un giornale perché era quello che si cercava ecco questa cosa non si trova più senti ma il fatto che il Corriere della Sera di recente abbia ingaggiato Fabio Volo come firma delle pagine culturali ma no ma ha fatto solo un pezzo solo la lettura ma tu l'avresti ingaggiato Fabio Volo no io no poi per carità voglio dire Antonio Toriano che è un bravissimo responsabile della lettura del Corriere poi sai il Corriere è il mio giornale quindi però io capisco cioè voglio dire io non sono snob dal punto di vista culturale non sono mai stato cioè nel senso che io ho letto Fabio Volo e mi sono molto arrabbiato l'ho stroncato ma non l'ho stroncato perché era Fabio Volo ma perché nel genere rosa para femminile scrive male allora ognuno deve saper fare il proprio mestiere cioè non è che uno non è che devono essere tutti Roberto Calasso c'è Calasso c'è Citati c'è Eco e c'è Fabio Volo Fabio Volo è uno che vende milioni di copie sono contentissimo per lui non sono per niente invidioso cioè sì però sono contento che le vende ovviamente siamo tutti invidiosi però il problema vero è il livello cioè se tu stai nel livello popolare devi scrivere dei buoni romanzi popolari e se non è un buon romanzo popolare sembra scritto in una maniera assurda io mi arrabbio ma per quello non perché mi aspetto da Fabio Volo che scriva i Promessi Sposi perché voglio dire non lo scriverà mai ed è giusto che non lo faccia Sì ma secondo te vale ti ricordi quando c'erano i tre tenori che si diceva ma state volgarizzando la lirica e la risposta era ma così noi la portiamo a milioni di persone che altrimenti non ne fruirebbero non la conoscerebbero nel caso di Volo o di altri esempi che si possono fare anzi se ne vuoi fare qualche altro nome se non vuoi fare i nomi fa i cognomi sembra non ci sia un accanimento diciamo così ecco appunto vale la stessa cosa? dipende guarda nel caso dei tre tenori valeva come vale per esempio quando Baricco faceva i programmi televisivi che pepolarizzavano una serie di temi era molto bravo e faceva bene a farli perché poi comunque qualcosa ti rimaneva se tu mi dici allora però e qui c'è un dubbio che io ho cioè 50 sfumature di grigio, di rosso e di giallo, di verde quelle che sono se questo porterà poi dei lettori alla letteratura io penso di no perché è troppo brutto cioè voglio dire infatti mi spiegava Romano Montoni che è stato il fondatore delle librerie Feltrinelli in Italia che è un uomo straordinario che l'ho visto l'altro giorno che sono stato a Bologna a presentare Betti lui mi diceva stanno perdendo copie nella crisi perché anche i libri sono in crisi proprio gli autori come volo come i suoi 50 sfumature perché è il lettore occasionale che o compra volo le 50 sfumature o se non ha più la possibilità economica di fare un piccolo sforzo per comprare un libro non compra più nessun libro senti fammi una compilation di brutture devo dire di questi tempi ne ho viste tante c'è solo l'imbalazzo della scelta c'è solo l'imbalazzo della scelta ma poi sai cos'è io non le finisco le brutture cioè se dopo 4 pagine io mi accorgo dopo 5 pagine se un libro funziona o no poi è inutile che ce la raccontiamo non è che lo annusi come dico io ma più o meno sì come diceva Giorgio Manganielli non l'ho letto e non mi piace esagerarla però devo dire si capisce 6 pagine 5 brutture me le devi dire dai su beh intanto appunto la James è una che le 50 sfumature è una cosa illegibile poi ho letto anche questa Irene Cara che è un'altra roba c'è tutto questo nuovo genere di donne che dovrebbero scrivere libri erotici dove sono tutti belli ricchi e super dotati perché questo è il senso questa è invidia ma no vabbè ma per carità di Dio cioè voglio dire io pensavo che le donne avessero un immaginario un po' più sofisticato di quello degli uomini a quanto pare le scrittrici no però detto questo detto questo poi poi vediamo beh non devo dirti a me non mi piace più l'ultimo Camilleri devo dirti sinceramente non mi piacciono questi giallisti nuovi perché senti invece nella tua arca di Noè ideale chi ti porti via? beh Viventi Viventi o in generale? in generale 5 libri che mi porto via Tabucchi mi porto via non mi porto via Ari De Luca per esempio che lo lascio volentieri mi porto via alcune cose di Eco mi porto via Calasso mi porto via Citati mi porto via molta poesia noi abbiamo dei bravi poeti abbiamo uno come Magrelli è una cosa leggera ma che ti porteresti via? una cosa leggera che mi porterei via? ma sai non so se c'è una leggerezza ma io non leggo cose pesanti leggera nel senso che adesso ho fatto dei nomi impegnativi insomma quindi una cosa più leggera che mi porterei via? è che mi metti in crisi Topolino non so quello sì ma quello sicuramente cioè il fumetto è qualcosa che mi piace molto guarda ho letto adesso un libro molto non è leggero però è un libro leggero non nel senso del tema che tratta ma nel senso che è leggibile con una grande leggerezza che questo scrittore brasiliano che ha scritto questo libro sul figlio che è nato purtroppo con una grave malformazione cerebrale che ha scritto questo libro meraviglioso che ha pubblicato in Audi che ad esempio è un libro sospeso bellissimo delicato leggero ecco questi libri qui mi piacciono molto e invece di musica che ti porti nella carca di Noè? guarda io una musica sento tutta cioè nel senso che io sento il jazz sento e suono il jazz sì ma tu l'arga non ci puoi portare tutto quindi devi scegliere qualcosa ci porto Chopin ci porto non Beethoven ma Beethoven qualcosa i quartetti se vuoi però poi è troppo snob se ti dico queste cose meglio di no senti abbiamo solo un minuto e voglio parlare un attimo della tua tendenza a frequentare i social network come fa uno scrittore ad accontentarsi delle 140 battute di un tweet ma semplicemente se non usi solo quelle cioè nel senso che cioè fai 10 tweet no no quello no il tweet non va il tweet non va allungato con il tweet sequenziale perché non funziona la gente si va per le scatole no il tweet deve essere fatto di 140 caratteri punto dopodiché però un po' di trucchi ce li hai per esempio quello di usare un blog in cui tu linki il tweet eccetera eccetera ti devo dire sono un po' meno appassionato negli ultimissimi tempi e perché cosa ti ha fatto perché è un po' fuffa cioè sono convinto che cosa è più fuffa di tutte quelle che le robe più facebook più tweet più twitter è potentissimo facebook è potentissimo sì facebook è veramente pure sai che si dice che è più nazionale popolare facebook è un po' più elitario però se tu cerchi è inutile che ce la raccontiamo la gente sta sui social network o per parlare o per fare marketing non è che stai a fare altre cose abbiamo 30 secondi manda un tweet all'Italia coraggio non all'Italia nel senso di volare sì sì no no coraggio coraggio e basta punto sì mi sembra l'unica cosa punto esclamativo magari è certo ce ne vuole tanto ce ne vuole tanto sì adesso sì grazie grazie Roberto Controleo noi ci vediamo fra una settimana stesso luogo stessa ora arrivederci con Arapaccio